Vuole essere ancora una volta protagonista all'Amici del Volley Jarre nel prossimo campionato di Serie C di pallavolo femminile. Dopo l'infausto passaggio dei play-off nella passata stagione, stavolta il club giarrese vuole mettere a disposizione di Giovanni Cardillo, tecnico riconfermatissimo e certezza indissolubile da cui ripartire, un cestetto di valore in grado quantomeno di giocarsi la partita per la Serie B2. Il vero mercato pallavolistico anche tra le donne inizierà soprattutto ad agosto. Le atlete che non riusciranno ad accasarsi in quarta serie dovranno ripiegare sulla Serie C e lì l'Amici del Volley potrà iniziare ad avere obiettivi chiari.